Grazie mille, grazie mille a Matteo Gansani, a Calzorari, troverete le copie in cassa e poi formiamo una fila e l'autore è disponibile per il firmacopie, grazie. Vai, salta! Prendi anche me così? No, a te no! Sì, è facile. 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 Non lo vedeva del meteo sbendolo. Ciao, Marco. Grazie a tutti. Mi sono andato in blanche a Gesello. Ah, sì, allora. Ciao! Ciao! Come va? Adesso ci sediamo e... Il mariettino hai visto? Sì. Eh... Deve fare qualcosa? Sì. Sì. Allora... Ciao, Marco Scarlato, il creatore. Ti faccio... Ti faccio... Ciao! 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 Sì! 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 A casetta! Dai, fammi la foto! Vai! Vai! Sto registrando ma poi si può tagliare. Ha piaciuto la mia presentazione? Grazie! Tu sai cos'è? Spieghi bene. Spieghi bene. Spieghi bene. Complicate. Vedete che voi cosa devo fare? Mi siedo qua? No? Sì. Io mi seguo. Ti porto una sedia? Abba, ti porto una sedia? Sì. Ti porto una sedia subito. Anche il primo. Eccolo. Grazie. Adesso è полезe. Grazie. Fai un progetto. Wow! Uno. Avanti. Ad Anna! Ciao! Anche il mio macchino. Avrei bravi! Grazie! Anche il mio macchino! Un progetto! Un progetto! Fai un progetto! Grazie! Un progetto! E come... Anche per i ragazzi. Non si può fare un progetto! Anche per i ragazzi! Ciao Marco! Ciao Marco! Poi voglio anche... Sì, te l'ho fatto! L'intervistico figlio è stato grandissimo! È un grande! Scusa, ho delirio, lo dico, no? Sono un pazzito, scusate! Grazie, sei un grande! Senza di te... Ma che bello avere sempre il giornalista qua, il capo, le disposizioni! Siamo qui! No, perché a volte va, viene spiegato! Grande fene sua! Bene mia! Oh! A ti, a ti! Sì, sì, sì! Ho fatto un po' di robe nuove con la tua intelligenza artificiale Sì! Che anche Benanti ha visto! E te devo far vedere anche a te! Fammi bene! Grande, grande fede! Adesso do un bacio a te! Avanti! Eccola! Ciao! 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 Ti ringrazio! Ma che ti chiamo? Ciao! Possiamo fare la foto con voi? Certo! Perfetto! Non c'è problema! Ora posso? Grazie! Grazie! Perfetto! Perfetto! Grazie mille! Ciao! Il mio libro dov'è? È questo! Grazie a rivedere! Monica! 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 Ma non l'hai riconosciuta? Sì! Non l'hai riconosciuta? Non l'hai riconosciuta? Non l'hai riconosciuta? Guarda! Te l'ho detto! Ho detto a Monica! Infatti ho detto a Monica! Basta Monica! Basta! Non l'amore! Non l'amore! Andrea! Complimenti e grazie anche per il risposto al commento su LinkedIn! Ah sì! Qual'era? Era la mia recensione! Ah! Wow! Grazie! Con... Gratitudine! Grazie! Ciao! 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 Mi è riconosciuta la presa! Bene! Grazie! Grazie! Grazie a te! Mi ha fatto un momento che ci sono! Ma te li posso fermare tutti insieme dopo? Dopo! Eh! Ciao! 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 Grazie! 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 Mi aiuti sempre! Con... Gratitudine! Eh! Finisci ok! Grazie! Questo è per gli amici telefonazzurro! Wow! Allora! Allora! Saluti dal tuo senso! Eh! Di grande! Ma a chi? A chi? A chi? Mi è riconosciuta! Sì! Io lo vedo lunedì! Con... Stima! E... Mi piace! Grazie! Poi mi hanno detto che mi senti! Mi senti! Si prego! Marco! Grande! Facciamo... Allora? Mi mando una qualche foto! Dai! Grazie! Veramente! Cosa scrivo eh? Marco! Perfetto! Grazie! Grazie! Ciao Marco! Grazie di averci conosciuto! Anche mio! Sono Giuseppe! E speriamo che il computer non dica non ci sarà un acquatio! Bella questa tua cosa! Mi è piaciuta! Sì! Posso rubare un... Sì! 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 No! 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 Signore! Prego! No! 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 Ti ha fatto sedere! Sì! Ah! Senza cosa! Vai! 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 Certo! Sì! Grazie mille! Ciao! 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 A Francesco per questo! Francesco! Grazie mille! Leo! Ciao! Buonasera! Ciao! Ciao! A Maria Grazia! A Maria Grazia! Sì! Nella speranza che non venga partorito un altro Caravaggio! O la Vinci? Chi lo sa! Signora di questa parte! Sì! Sì! Marco! Complimenti! Vediamo l'ora di vedere! Siete insieme! Sì! Ciao! Ciao! Che carini! Grazie! Che era interessante! Va bene! Ciao! 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 Si può contattare! Grazie! Sì! La merci! Mario! Camisani dal solari punto com! Vai! Mario! Mario come me! Mario! Vieni! Vieni, vieni! Vieni! No, vieni! Eh, amore sai che pure tu questa cosa da pubblica che ormai sai? Grazie, grazie. 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 A chi? Maurizio Cavalli. Grazie. Per lui la foto. Ciao. Ti volevo salutare. Piacere collega. Grazie per quello che mi va. Grazie. Per quanto riguarda si guarda questo? La BPS. No, grande. Volevo darti un ui becchietti da presentare. Era un piacere incontrato. Ci siamo anche spiegati. Grazie. e al collega quindi ci sentiamo magari subito ciao ciao grazie ragazzi per tutto il supporto grazie per tutto il supporto ciao vi è piaciuto? grazie vai ciao quante piacere ciao ciao Sara grazie a Stefania però vabbè a sera Stefania perché è un regalo per mia mamma va bene? possiamo fare una foto? tutti da fatto oh scusa 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 no vai devo segnare da questa parte? sì quanto è lunga questa foto? sono molto lunga devo fare un po' di regali carini vai allora questo è per me Alexandra e gli altri semplicemente al lettore ma anche a te la firma basta sì grazie 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 nome name A B B B B B B G D D D D D D D D Sì, A-U-U-A-N-N-L-L-E-I-N-G. Grazie, vi ci abbiamo visto in video noi, sì? Sì, sì, è vero. Sì, per me e per mio figlio. Io mi chiamo Saro. Come, non lo ricordo perfettamente. Tu sei stato gentissimo e Mattia. Grazie, complimenti perché... Grazie, Saro. Grazie per l'aiuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è ancora forza per mio figlio Gianarco. Anche il mio si chiama, uno dei miei si chiama così. Ma quanti figli hai? Due, Mario e Rado. Grazie mille. Grazie. Ciao, Mario. Ciao, come stai? Ciao. Ah, bravissimo. Ah, bravissimo, bello. Vai. Dedicano a Corrado. No, a Corrado, a Corrado. Grazie, se ti si è giusto non è si chiama, ma sta partendo per la serena. Grazie mille. Ciao, Saro. Grazie. Ciao. Ma ti ricordi come mi chiamo? Sì. Come stai? La vedi? La Sonia? Come stai? Bene. Ciao, ragazze. Ciao. La Sonia con... Porta la foto, me la fa la Simonetta. Posso? Ciao, Simonetta. Marcolina. La foto? Vai. La speciale, come è? Faccio la pietra? Non è tutto il campo? Faccio. Grazie. Una sola, una volta. Eh, Pananne. Parco, bene. Parco, bene. Parco, bene. Parco, bene. Parco, bene. Vieni, Mario. Vieni, facciamo. Guarda. Giuro, una vacanza di Bela quella che abbiamo fatto con te. Marlana. Carina. Ripacciamola. Ma rifacciamola. Ciao, Simonetta, come stai? Come stai? Ah, bene. Allora, grazie. Guarda che la vogliamo ottenere la foto. Dai, 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 dai. Quindi a tutte e due, Simonetta e Stefano, no? Sì. 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 Mi è partito, mi è partito il dubbio con amicizia e affetto. Sì. Ciao, Michele, ti volevo anche consegnare da parte dell'associazione CompiVeter questo invito, dato che ci ho già provato via email, adesso sono venuto a farlo di persona. Wow, sai cosa fanno loro? Lui impara a codare, guarda. Giusto? Coder 12, insegna ai ragazzi coding. Che tipo di coding? E facciamo divulgazione informatica e tecnologica ai ragazzi. Wow. Spero che non ti ingombri troppo, poi guardati continuamente tranquillamente. Grazie. Vai, grazie, c'è il numero qua, c'è qualcosa? Sì, sì, sì. C'è tutto. Allora come va? Aiutami, scusi. Alexandra, come via, sento. No, 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 lo so, lo so, è che è un voto. Con amicizia. Come va, caro? Bene, bene. Ti è piaciuta? Non dobbiamo fare qualcosa insieme, sai che siamo molto presenti su via. Abbiamo gli scambi, i numeri noi, ce li abbiamo? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Qua? Sì, 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 sì. Magari una volta facciamo una cosa, che non so. Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora? Bene? E come sta? Bene, bene. Aiutami che ho un... Luciana. Luciana, è certo. Luciana? Ah, ma certo. Scusa, perché oggi è una giornata... Grazie di tutto l'aiuto. Scusa, ma poi non ci siamo mai visti persone. Eh? Quindi sono giustificato. Sono giustificato. Eh? Mi sono giustificato. Grazie, Luciana. Grazie. Grazie. Hai sentito caro, no? Scusa. Grazie, Luciana. Grazie mille. Scusa, ora. Ciao, subito. Ciao, piacere. Io sono signora, però ho sentito due anni fa, e questo è una tesi di laurea, perché io ti scrissi, però ovviamente hai un sacco di messaggio, ma... E non sono riuscita a seguirti? No, 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 ti scrissi... Carlo Infante. Carlo Infante, no? Sì, sì, è bravissimo. Ecco. È un grande filosofo. Esatto. E mi ha anche questa qua, ti ricordi? Certo, come no? Grande! Il copricane. Sì, esatto. Guarda che te lo firmo, già che ci siamo. E niente, quindi volevo farti firmare la mia tesi di laurea, ci tenevo. Sì, sì, ci tenevo tantissimo. Va bene, sei sicura? Io vado, eh? Sì, sì, assolutamente. Ok, allora. E adesso io insegno, tra l'altro. Ah, wow, dove? Insegno come formatrice esterna, magari nei corsi di formazione faccio il presente di tecnologie digitali. Wow! E faccio vedere anche dei suoi video, a volte. Ma veramente, grazie. Faccio anche lotte prevenzione del cyberbullismo. Veramente, allora prendiamo il... Carol, prendi il suo numero poi. Sì. Vai. Grazie, grazie. Possiamo fare una foto? Sì. Grazie. Ok. Grazie mille. Grazie. Carol sta mandando tutti a bere? Ora vado a vedere, ma preferirei filmare, preferirei registrarle tutte. Cosa scrivo? Esther e Giorgio. Genova in Italia. Mi risposta. In giro. No, come faccio? Ciao. Non ci si vede sui social. E poi arriveranno queste nuove file. Ah, come no? È arrivato in team. Ok. Come mi ricordi il nome? Fabrizio Lezzoni. Fabrizio, la pelle, no? Sì, c'era la pelle. Come no? Me lo ricordo perfettamente. È rivenuto quella volta là l'aperitivo. Esatto. Prese. Facciamo uno e uno. Te ne ho portato uno qui. Veramente? Sì, certo. Perché ti deve fare pubblicità. Quindi fa la pelle. Guarda Mario. Tu ne hai uno. Sì, sì. Non c'è pure nessuno. Perfetto. Non hai bisogno di me. Basta. Ah, l'avevo vista prima. Grazie. L'avevo vista prima. Molto bella. Molto bella. Ok. E' la finita. Inizia come un libro. Grazie. 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 Molto bello. A posto. Ah, certo. Molto bello. Andiamo tutti di là a chiacchierare bene. Grazie. Ti prendo io le cose? Guagliuncello. Allora come state ragazzi? Come va? Allora per me. Grazie. Qua siamo belli spigliati. Grazie, grazie. Grazie. Scango? Vai. Arribano. Let's try. Buona amica. Buona amica. Sipatia. Come dire? Molto bella. Grazie. E' un redare di dinamico, quindi tu utilizzi e tu la cambi in base all'occasione. Ah, quindi puoi fare un redare. Cioè, bellissimo. Com'è che si chiama? Com'è che si chiama che la cerco? Ok, la cerco online. La cerco online. Molto bella. Grazie. Buona amica. A chi lo dedico questo qua? Dopo glielo dico, dopo glielo dico. No, no, dico, magari lo volevi. Di tanto poi... Vuoi che faccio una foto? Una roba. A occhi o a occhi, così lo faccio vedere anche a papà. Amici. E a... Perfetto, ho fatto. Grazie. No. Ciao. Come vanno le cose? Benino, non benissimo. No, benino. No, 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 no. Vabbè, però è stato un buon... Ti ricordo, ti ricordo. Allora, finito.